Il film Il Divin Codino che racconta la vita di Roberto Baggio divide la critica. Da una parte chi è contento di aver scoperto la sua parte più interiore e le dinamiche familiari, dall'altra coloro che hanno visto ridimensionata la sua cavalcata calcistica. Ma non c'è dubbio che se Baggio sia arrivato sul tetto del mondo del pallone, una parte del merito va da chi lo ha avvicinato al mondo del buddismo. Lui era veramente un ragazzino, un pochino più grassoccello perché non si allenava più, se era rifatto mi sembra, non mi ricordo, un altro infortunio comunque aveva avuto. Per cui io pensai proprio, dissi, ma porca miseria, questo ragazzo così bravo e così sfortunato. Per cui l'insegnamento che mi aveva dato il buddismo subito fui portato a, insomma, perlomeno a provare di parlargli, fosse altro per vedere di incoraggiarlo, così naturalmente. Per Roberto, quando ne parlai, si stette perlomeno due o tre mesi di nascosto, veniva di nascosto a casa mia, per cui sì, un pochino, non è certo come adesso, non si era riconosciuti come siamo adesso, per cui c'era scetticismo. Il campione italiano più amato del mondo del calcio si è ritirato nell'amore della sua famiglia, circondato dagli arberi e dal verde ed è dedito alla passione della caccia, ma Firenze per lui avrà sempre un posto speciale. L'addio da Firenze è una cosa molto... io l'ho vissuta profondamente. Posso ancora dire che Roberto effettivamente voleva rimanere qui a Firenze. Vi sentite ancora con Roberto ogni quando vi incontrate? Incontrarci è un po' difficile perché lui sta a sua Altavilla Vicentina, ma sentirci tutti i giorni, non fosse altro che un whatsapp. Per cui ti volevo dire appunto, dal film è venuto fuori la parte un pochino più mesta di Roberto, però Roberto è anche talmente casinista e su whatsapp ti puoi immaginare che cosa ci scambiamo.